buongiorno ragazzi come ho detto la volta scorsa nel precedente video oggi parlerò dell'azienda limar che ha sede in italia in provincia di bergamo producono distribuiscono caschi e occhiali io ho due modelli di casco il primo è quello che preferisco e utilizzo di più il modello limar mi piace perché leggero pesato da me pesa 250 grammi colorazione perfetta due anni che lo utilizzo in gara principalmente sapete che io faccio mountain bike anzi esclusivamente mountain bike nonostante ho fatto gare uscite col fango acqua pioggia come vedete ancora perfetto quindi dal punto di vista estetico e qualitativo è ottimo sembra ancora nuovo mi piace perché offre un buon circolo d'aria con grosse feritoi anteriori superiori e posteriori offre una buona protezione leggerissimo perfetto dietro c'è anche una un pulsante per azionare la luce posteriore che io non ho mai fatto perché non la uso non perché non la uso perché non mi serve sul casco cielo in bici montata l'altro modello che ho acquistato a settembre è delta anche questo mi piace la colorazione non so se avete notato ma questo è rossa come colore questo ha una visiera regolabile in tre posizioni è più indicato per chi fa enduro comunque uscite un po impegnativo monta in non tanto ci è leggermente più pesante del modello air star la risale pesa due t e mezzo questo pesate i 10 comunque è un modello diverso offre una maggiore protezione posteriore della nuca e laterale è adatto per chi fa enduro oppure come dicevo prima uscite un mountain ho chiesto a lima se c'è la possibilità a chi mi segue chi ho i miei amici che comunque chi mi segue su instagram facebook se era possibile riservarli uno sconto loro mi hanno risposto che riservano uno gli riservano uno sconto del 30 per cento sull'acquisto in shop da internet quindi ad esempio un casco costa 100 euro inserendo un codice sconto che mi hanno inviato lo pagare lo pagherete 70 euro il 30 per cento di sconto come detto volta scorsa io non sono un venditore non voglio diventare un venditore perché il mio lavoro principale un altro mi sembra come come detto prima doveroso fare un video un video inerente alle mie collaborazioni non guadagno niente se volete utilizzare il codice sconto per l'acquisto ovviamente di acquistare comunque un casco limar e volete risparmiare il 30 per cento che sono dei soldini mi inviato messaggio in direct su instagram oppure su facebook sarò ben felice di girarvi il codice quindi con questo vi saluto e vi auguro un buon weekend ciao